Ragazzi buonasera e benvenuti, eccoci qua con la Champions League Domani mercoledì, tanti big match, si, decideranno gli ottavi di finale, il ritorno Vedremo chi passerà il turno e arriverà ai quarti di finale Questa è la schedina e i pronostici consigliati da Alessio Miozzi, che saluto Partiamo subito con la partita di domani, Liverpool-Porto Liverpool che praticamente è un passo dai quarti di finale, ha fatto una goleada dall'andata Perciò sicuramente potrebbe passare con molta tranquillità Quindi mettiamo under 4,5 Under 4,5 perché comunque Liverpool essendo in casa, magari giocando tranquillamente potrebbe fare parecchi gol Oppure il Porto, chissà che farà la partita dalla vita e tenterà una rimonta Però under 4,5 dovrebbe essere il risultato giusto Altro big match, un ottavo di finale di lusso diciamo PSG-Real Madrid PSG che deve rimontare con disperazione, quasi Senza Neymar, infortunato, praticamente ha finito la stagione Deve rimontare e vincere almeno con 3 gol di scarto O un 3-0 E deve non subire gol Difficile, difficile Sebbene il PSG sia in casa, però Real teoricamente è sempre il più favorito Quindi doppia chance, X2 E il risultato consigliato Poi mercoledì ci sarà Manchester City-Basilea E qui, anche qua il City ha quasi passato il turno In casa con il Basilea dovrebbe avere problemi Scusate Potrebbe finire anche qua con un'altra goleada Quindi mettiamo over 3,5 Over 3,5 questa partita, tranquillamente Ce la possiamo giocare Poi un'altra partita importante Tottenham-Juventus Juventus che deve rimontare Deve vincere per forza E' obbligato a vincere Quindi, previsti tanti gol Tottenham in casa Quindi, teoricamente, dovrebbe segnare Ci mettiamo gol Gol, tranquillamente Potrebbe finire 1-1, 2-2, 3 pari 1-2, 2-1, insomma Squadre entrambe Comunque In fase d'attacco Molto prolifiche Se vi sono andate, 2 pari Giocando 10 euro Potremmo vincere 70 euro Quindi, niente male come cifra In caso di vincita Non sarebbe un bel gustoletto Che i ciro sono tanti da puntare Però, diciamo che L'altra volta abbiamo abbastanza Diciamo, ha anche azzeccato la Champions Quindi la Champions è abbastanza facile Anche se i risultati Non sono mai matematici Diciamo Questa è la schedina Pronostici consigliati da Nessu Miozzi Liverpool-Porto Under 4,5 PSG-R Madrid-X2 Manchester City-Basilea Over 3,5 Tottenham-Juventus Gol 10 euro Vinci da 70 Vediamo Cosa riusciamo a fare Questa volta Per gli ottavi di finale Ritorno Schedina così Da Alessio Miozzi A presto Un saluto Ciao